In un mondo che cambia una sanità in evoluzione straordinaria con una serie di strumenti altrettanto straordinari come quello del digitale. Tutto questo all'interno chiaramente di una rivisitazione complessiva di quella che è l'organizzazione del sistema sanitario così amato e così utile a quella che è la nostra popolazione e alla popolazione italiana. Ovviamente il digitale non è un mero strumento che può essere inserito a prescindere ma questo implica a livello sia nazionale, regionale e quindi aziendale un disegno chiaro di quelle che sono la visione finale del sistema sanitario che noi vogliamo e di quelli che sono i fabbisogni del cittadino. È chiaro che questo tipo di strumento se partecipato questo diventa estremamente importante, partecipato e quindi reso evidente a tutti gli attori che fanno parte del sistema sanitario stesso diventa e può diventare un elemento straordinario sotto due punti di vista. È un elemento straordinario perché facilita le collaborazioni fa a professionisti e anche quella che è l'attività multidisciplinare che chiaramente vede benefici altrettanto straordinari per il risposta al cittadino ma anche un elemento di maggiore prossimità e di equità a quelle che sono le prestazioni, la presa in carico direi è il termine migliore da erogare al cittadino stesso soprattutto un vantaggio incredibile per quelle che sono le realtà più disagiate come le aree interne, le zone montane, le zone insulari dentro una fascia di popolazione che è sempre più anziana con patologie croniche e quindi chiaramente tutto questo all'interno di quella che è la revisione che è in corso, la rimodulazione del nostro sistema con un grande incremento anche di quella che è l'attività e la sanità territoriale in sinergia e di concerto con la revisione di quella che è la rete ospedaliera può fare e dare dei risultati straordinari. Tutto questo va definito, va documentato, deve stare all'interno di quelle che sono le progettualità quantomeno regionali ma direi ancora prima nazionali, deve essere misurato, misurare l'attività è fondamentale e perché no sarebbe particolarmente utile andare ad inserire anche dei lea digitali che possano essere e vedere dei monitoraggi puntuali a livello del tavolo addirittura nazionale. Grazie. 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 Grazie.